Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace. È il tema scelto da Papa Francesco per la 58esima giornata mondiale della pace, che sarà celebrata il 1 gennaio 2025. A renderlo noto è il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, spiegando che la scelta ha un chiaro intento, ovvero manifestare una naturale consonanza con il senso biblico ed ecclesiale dell'anno giubilare, ispirandosi in particolare alle lettere encicliche Laudato Si e Fratelli Tutti, soprattutto attorno ai concetti di speranza e perdono, cuore del giubileo. Si legge nella nota in cui si sottolinea che l'anno giubilare deve essere inteso come una chiamata alla conversione volta non a condannare, ma a riconciliare e riappacificare. Partendo dall'osservazione della realtà dei conflitti e dei peccati sociali che affliggono l'umanità oggi, guardando alla speranza insita nella tradizione giubilare della rimozione dei peccati e cancellazione dei debiti e alla riflessione dei padri della Chiesa, prosegue la nota, potranno emergere orientamenti concreti che portino a un cambiamento tanto necessario in ambito spirituale, morale, sociale, economico, ecologico e culturale. Soltanto da una vera conversione personale, comunitaria e internazionale, l'appello che arriva dal di Casterò potrà affiorire una vera pace che non si manifesti solo nella conclusione dei conflitti, ma in una nuova realtà in cui le ferite siano curate e a ogni persona conclude venga riconosciuta la propria dignità.